radio pirata e la radio nella radio ed eccoci nuovamente e finalmente di nuovo assieme anche oggi siamo qui per raccontarvi le nostre cose su yastradio.com e su radio rcs e ovviamente anche sulle varie piattaforme che distribuiscono podcast nella prima parte io mi occupo di radio quest'oggi in particolare con la radio che ha salutato e ricordato gino strada la scorsa settimana c'è stata una notizia che è rimbalzata sui social network e sui vari media che non ci aspettavamo sicuramente la scomparsa di gino strada anche la radio ha ricordato gino strada e anche fm world punto it ha dato notizia appunto della radio che si è mobilitata per questa importante scomparsa gino strada il ricordo anche nell'archivio di radio radicale ha colpito tutti l'improvvisa scomparsa di gino strada medico e fondatore di emergency la sua è stata in assoluto una vita dedita al prossimo numerosi ricordi e le riflessioni che hanno contraddistinto la sua vita conclusa sia ruen in francia il 13 agosto di quest'anno la notizia è stata rilanciata come riporta il sito fm trattino world punto it immediatamente da tutte le radio ma una in particolare ha messo a disposizione tutto l'archivio dedicato ai suoi interventi ovvero sia radio radicale dalla home page di radio radicale punto it infatti è possibile riascoltare in versione audio e video diversi suoi interventi in cui ha parlato di diritti umani di migrazioni di medicina e di tanti temi che aveva a cuore semplicemente inserendo gino strada nella casella di ricerca potrete ascoltare e rivedere la sua voce e le sue idee numerosi anche gli speciali di radio popolare punto it con il racconto della giornata di venerdì 13 agosto nel giornale radio delle 19 30 che è reperibile online nel formato podcast il ricordo degli ascoltatori e di chi lo aveva conosciuto e amato e ne aveva condiviso gli impegni e gli ideali altri speciali sul sito della radio di radio popolare appunto punto it e anche su rai play radio la trasmissione fahrenheit ha dedicato un ricordo a gino strada come anche in pezzi da 90 sempre presente su rai play radio punto it è un episodio intitolato gino strada con emergency nel cuore e a questo punto su radio pirata alla radio nella radio una buona notizia che arriva da un comunicato stampa della regione emilia romagna perché si parla di radio immaginaria già vi ho parlato di questa realtà veramente young perché è fatta da ragazzini dagli 11 ai 17 anni che ha una spontaneità e una freschezza di comunicazione che è davvero invidiabile e qui vorrei veramente dedicare se si può questo spirito davvero giovane ma giovane fatto con intelligenza a tutte quelle persone e qui scusate se parte la mia vena di brontolone ma tutte quelle persone che dicono sono 40 anni che faccio radio so come si fanno le cose no sono 40 anni che fai la radio e non sai assolutamente come vanno le cose vabbè torniamo a questa bellissima radio il piccolo furgoncino colorato di radio immaginaria è stato in viaggio ed è tuttora in viaggio sulla costa dell'entroterra sulle strade dell'emilia romagna per il secondo anno consecutivo è partito da bologna oltre a pe 2021 il tour della prima radio e network in europa diretto e gestito da adolescenti dagli 11 ai 17 anni un'esperienza on the road finanziata dalla regione emilia romagna con fondi europei riproposta anche quest'anno in 30 tappe che è iniziata lunedì 26 luglio da bologna per approdare il prossimo 29 agosto a forlì sede d'arrivo l'obiettivo dell'iniziativa è dare voce ai giovani per conoscere la loro visione di futuro parlando di sostenibilità di digitale ed innovazione ma anche per illustrare le opportunità che la regione emilia romagna offre loro grazie ai fondi europei icona del viaggio un vecchio ape piaggio immatricolato nel 1970 e ribattezzato appunto oltrape che i ragazzi di radio immaginaria nel 2018 hanno trasformato in una radio viaggiante risalendo l'italia da partinico palermo a castel guelfo bologna il viaggio è poi proseguito per mezza europa raggiungendo stoccolma per incontrare greta thunberg la giovane paladina dell'ambiente dall'anno scorso per attraversare l'emilia romagna l'ape radio è diventato un mezzo ancora più ecologico che siamo unito di pannelli solari e un nuovo motore alimentato a biometano da ricordare che nel 2020 nel pieno della pandemia i ragazzi della radio di radio immaginaria hanno realizzato due iniziative in collaborazione con la regione emilia romagna intervallo 182 che era la famosa distanza sono 28 puntate di un magazine quotidiano di educazione e intrattenimento dedicato agli adolescenti costretti a casa dalle famose misure di contenimento da covid e un'altra importante attività dello scorso anno era appunto l'edizione 2020 del tour oltrape buon ascolto di tutto cuore su radio immaginaria punto it presente anche su spreaker mi raccomando dateci un orecchio dateci un ascolto perché veramente la loro freschezza di comunicazione veramente non ha paragoni e torniamo nuovamente a parlare della leggendaria radio sulla nave la radio del 64 da dove sono nate tante cose da dove insomma la radio ha preso un'energia nuova al tempo che insomma per tanti anni ha fatto da maestra stiamo parlando di radio carola in buone notizie per la leggendaria radio sulla nave rossa grazie tra l'altro a giuseppe fiorellini che ha pubblicato la notizia sul gruppo talk media su facebook riportando in italiano la segnalazione dal sito di informazione che è radio today punto co punto uk voglio ringraziarlo proprio personalmente perché stato gentilissimo a fornirmi un po tutti i dettagli e i riferimenti di questa notizia perché la cosa bella è che radio caroline appunto aumenta la potenza per favorire la crescita sociale è arrivato l'ok per un aumento di potenza a radio caroline per estendere la sua area di copertura dal suffolk e dall'essex e per includere il kent e l'est success la stazione finora trasmesso con una licenza comunitaria di un kilowatt rilasciata il 2018 sui famosi 648 kilohertz famosi perché perché un tempo quella frequenza era in uso alla bbc la famosa e famigerata grande nemica al tempo di radio caroline l'entità dell'aumento non è stata comunicata ma si pensa ad una grande potenza of com dichiara solo che l'aumento di potenza si è reso necessario per combattere le interferenze nell'area di copertura e per estendere la copertura alle aree adiacenti pur ritenendo significativo l'aumento dell'area autorizzata la decisione ha ritenuto che vi fossero circostanze eccezionali per accogliere la richiesta affermando che il servizio ha registrato elevati livelli di rumore di fondo e di interferenza in particolare nelle aree urbane il licenzatario che sarebbe radio caroline serve anche una comunità di interesse rispetto ad una comunità geografica definita il che significa che il servizio è posizionato per essere accessibile alla comunità di interesse nelle aree estese proposte l'aumento di potenza migliorerà quindi il segnale nell'area di copertura dove vivono e lavorano alcuni volontari della stazione nella domanda di aumento potenza radio caroline ha fornito piani su come coinvolgere ulteriormente il pubblico nelle aree estese osservando che le prospettive di guadagno sociale sarebbero notevolmente migliorati nel kent e nell'essex e altrove con conseguenza della copertura estesa proposta in particolare questa copertura estesa comporterebbe l'ingresso della loro iconica e storicamente importante radio ship nell'area autorizzata ciò consentirà anche l'uso di questo spazio museale come strumento educativo nella radio offshore e un'ulteriore risorsa di istruzione e di formazione per potenziali presentatori e tecnici radiofonici volontari che insieme alle strutture dello studio nel kent forniranno ulteriori capacità di crescita sociale ecco qua avete sentito come funzionano le cose in inghilterra amma mia cari amici che decidete le sorti delle radio in italia prendete ogni tanto spunto da queste cose positive